Sul tavolo del sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, tra le priorità individuate dopo la sua forzata allontananza dalla stanza dei bottoni del comune della città dei Fiori, oltre alle questioni legate alla chiusura del reparto maternità dell'ospedale e alla chiusura della sede del liceo Lorenzini, c'è la messa in sicurezza del MEFIT, il mercato dei fiori. È scaduto il 22 giugno l'anno dato dai vigili del fuoco per mettere a norma la struttura. Il subcommissario prima di andare via ha fatto una delibera dove sostanzialmente approva il progetto preliminare di 5 milioni e 5, che è un lotto dei 9, per poter mettere in sicurezza lo stabile. Lo scorso primo giugno la regione toscana ha autorizzato il finanziamento di 2 milioni di euro, ai quali il comune di Pescia ha aggiunto un milione di euro grazie all'accensione di un mutuo. A settembre a questi 3 milioni dovrebbero arrivare ulteriori 2,5 milioni di euro dai fondi del PNRR per mettere a norma l'edificio anche in materia di normativa antincendio. Il comune cosa dovrà fare subito? La prima cosa urgentissima è dare un incarico urgente, ora non è una sommorgenza, è un incarico diciamo velocissimo per intervenire sulle funi, che sarebbero quelle che reggano praticamente il mercato, il tetto, di cui 22 sono già state cambiate e ce n'è altrettante da cambiare. Questo occupa circa 2 milioni, i 2 milioni della regione. Nel frattempo il MEFIT che abbiamo incontrato ieri farà tutta una serie di lavoretti, accorgimenti, dal rivelamento fumi fino a mettere in sicurezza i moli eccetera, che permetta di non dover chiudere nessuna parte del mercato e nemmeno creare disagio alle aziende. Perché quello che noi dobbiamo fare assolutamente è non creare disagio a questa struttura, che è una struttura di livello europeo e internazionale. Per arrivare poi ai 9 milioni che saranno raggiunti, con quali altri contributi? Sì, noi io in questi giorni ho parlato col Ministero delle Politiche Agricole e devo dire che mi ha sottolineato che uscirà ora nel giro di un mesetto un bando sulla logistica in agricoltura, parlano di un miliardo, sempre PNRR e quindi ci ha detto che lì sopra ci potremmo mettere la differenza, logicamente a quel punto guarderemo se c'è anche altre cose. E questo permetterà quindi, finiti tutti i lavori, di avere questa struttura messa a norma che non solo servirà per i fiori, che è fondamentale, ma potrebbe diventare quella piazza coperta multifunzionale per poterci fare anche tutta un'altra serie di attività che noi avevamo definito come il famoso motore di sviluppo.